Dalla trattoria Soralella di Roma qui a San Pio delle Camere per ricette speciali sullo zafferano, diciamone una come quella di questa mattina con le animelle. Oggi abbiamo fatto delle animelle scottate, rosolate e cotte poi con del brotto vegetale alo zafferano accompagnate da dei carciofi spadellati con patate di leonessa. Il tutto era poi accompagnato da un gelato alo zafferano su un cestino di pecorino romano top. Questa è la ricetta che abbiamo fatto questa mattina. Devo dire che l'animella ha riscosso molto successo perché poi è una carne dolce, è una carne del quinto quarto quindi rimane comunque molto delicata e va ad esaltare in maniera ottimale la fragranza e l'aroma dello zafferano. Quindi è piaciuto moltissimo e sono contento per questo e grande soddisfazione.